Torneo delle Sirene, secondo anno, grande successo, il grande Pippo Incarnato, ex del Sorrento, è riuscito con tanti amici sponsor a creare un evento importante. Si ringrazia l'amministratore consigliere comunale d'assessore Mario Gargiulo, Campo Italia, tanti ragazzi, tante belle partite, Juve, Milan, Cesena, Bari, Scuole Calcio, Gigi Manesca, Fositano News. Grazie a tutti.